Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo una maglia che abbiamo già visto in passato, tra l'altro anche in versione fan. Ovviamente la seconda maglia dell'Inter Miami, la maglia di Messi, in edizione Player. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Sicuramente una delle maglie più richieste al momento. Messi attira su di sé un'attenzione incredibile. Al costo che vedete qui sopra, credo che sia un affare imperdibile, però vedete voi cosa fare. Vi ricordo che trovate in descrizione qua sotto tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo che avete visto prima diventa ancora più basso. Prima di lasciarvi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, ma ci permette di farvi vedere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione Player. Il finale è io! Grazie a tutti